In un match ufficiale sarà la prima volta una contro l'altra di fronte Pineto e Pescara, mai accaduto prima d'ora. Diverse invece le sfide amichevoli soprattutto negli ultimi anni. La prima addirittura nel lontanissimo 1946, quasi 80 anni fa al Campo Rampigna. Il Pineto è stato sempre lo sparring partner del Pescara, quest'anno invece è una pari categoria ed è sicuramente il bello del calcio. Il grande giorno è arrivato, teatro dell'evento, l'Adriatico Giovanni Cornacchia per l'indisponibilità dello stadio Mariani Pavone che potrebbe essere pronto a fine ottobre. Dunque, come da calendario, il Pescara giocherà tra virgolette fuori casa e una gara di recupero. I piecazzuri avranno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente in caso di vittoria alla sorprendente Torres che finora non ha sbagliato un colpo. Sette vittorie in altrettante partite, 8 su 8 se consideriamo il successo sull'Olbia nel primo turno di Coppa. Assenti i nazionali Tuniov, Accordero e Staver. Tra i convocati c'è Pellacani, Franchini ancora ai margini. La novità sostanziale, Vergani dalla primo minuto nel tridente completato da Merola e Cangiano. Previsti cambi anche in mediana, probabile undici. Plizzari tre pali in difesa Pierno, Brosco, Mesic e Moruzia. Centrocampo probabilmente Aloy per squizzato con De Marco e Dagasso Mezzali. Davanti, come detto, Merola e Cangiano a supporto di Vergani che con Zeman in gare di campionato è partito titolare solo in casa della Gelbison lo scorso 12 marzo, sostituito nell'intervallo da Facundo Nescano che firmò il gol vittoria. In questo caso Cuppone partirebbe dalla panchina. Io penso che è un avversario difficile, nel senso che è una squadra che è salita di categoria, che affronta Pescara che per loro è importante come per noi, però loro non sono abituati, noi nemmeno, anche se abbiamo fatto in preparazione la partita amichevole per me. Tatticamente che partita vuole vedere? Dove deve essere bravo il Pescara? Noi dobbiamo essere più attivi rispetto a Ferrara. Abbiamo giocato troppo da fermo, troppo fermi e non ci si arriva così come Pineto. Ripeto, a parte che c'è entusiasmo e ha la voglia e penso che loro la mettono sul ritmo e noi dobbiamo rispondere. Percorso quasi netto dei Biancazzurri. Cinque vittorie di cui quattro consecutive un pareggio. Il Pineto dal canto suo si è rialzato dopo il brutto pomeriggio di Lucca. Due successi in altrettante gare in Coppa ad Ancona e all'Adriatico il campionato contro il Ponte d'Era. Travolta per 4-1. Squadra ispida organizzata da affrontare con piglio e determinazione. Il Pineto proverà a far giocare male l'undici di Zeman con aggressività sporcando le traiettorie e le linee di passaggio. Provando poi a ripartire con la qualità dei suoi interpreti offensivi. Fuori Jaccherino per la squalifica e Pellegrino causa infortunio. Amaolo potrebbe confermare per 9-11 la formazione schierata con la Ponte d'Era. Sistema di gioco 3-5-1-1. Tre pali tonti in difesa evangelisti, gli ex in grosso e marafini. Sulle fasce Teraschi e Borsoia, metà campo Schirone, Amadio e Germinario. Altro ex tra le linee Volpicelli alle spalle di Shakir con Gambale inizialmente in panchina. Pineto Pescara sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini.